Bilancio di fine anno per il Presidente della Camera di Commercio, Tommaso De Simone, che ha analizzato i dati relativi al commercio nella provincia di Caserta nell'anno 2015. Nonostante i soliti numeri negativi, De Simone ha annunciato una serie di iniziative che partiranno già da gennaio 2016, alcune anche in collaborazione con la Reggia, diretta da Mauro Felicori. Intanto l'ormai consueta apertura dei saldi il 2 gennaio, primo segnale di positività dei sercenti casertani. Ci stanno alcuni momenti che ci fanno precipitare nella classifica per la qualità della vita del Sole 24 Ore, mi riferisco evidentemente all'occupazione, mi riferisco ai dati sugli asili nido, che ci vedono ultimi sostanzialmente in Italia, però ci sono alcuni dati che evidentemente fanno vesperare, come il dinamismo del mondo delle imprese, che la Camera di Commercio rappresenta. Si potrebbe ragionare con gli altri parametri che ha messo su nell'analogo a classifiche Italia Oggi, che ci vede 89esime, ma evidentemente tutto il Mezzogiorno d'Italia è in goda alla classifica. Nel nuovo anno che si apre con i saldi dal 2 gennaio, che cosa ci dobbiamo aspettare? Quale iniziativa? Alcune anche con la Reggia l'ho anticipato. Noi faremo delle attività, ovviamente, cercando sinergia con tutti gli attori del territorio. Ho ragionato più volte con il dottore Fericori, che è il direttore della Reggia, ho ragionato con il prefetto, con il commissario straordinario del Comune di Caserta e con gli altri commissari straordinari, perché purtroppo sono tanti, anzi tutti i maggiori comuni della provincia di Caserta sono commissariati, la dico meglio, ma quindi non è un segnale positivo. In parte sono spesso dei funzionari a pubblica amministrazione. Abbiamo necessità di metterci insieme cercando di immaginare delle attività positive per il rilancio del territorio casertano.